Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Il soggetto qui non respira, però a fare quel che riesco Sì, certo Stanno andando... Stanno andando a controllare il punto, ragazzi Entrate, entrate dentro, entrate dentro veloci Entrate dentro dal 9-3-1, dal 9-3-1, chiudiamoli Oh, eccello, ecco la macchua Ecco la bandana Guarda qua il Tokyo Drift, fra Brindina, appena volevamo lui No, 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 li ho visti anch'io No, no, non eravamo lui, bro Come sono vettiti? Quattro ce ne sono Ehi, provatemi a vedere se riesco a beccarli da un altro... La zi? Chi è sparato dietro? Chi è sparato a spiaggia? Ma ragazzi, non iniziate a accusare di meta Perché già ho visto un messaggio Come fai a saperlo in RP Ieri sera Ve li dico, una volta per tutte Clippate, raga, clippate Clippate, eh, così ogni volta che rompono Che dicono, come fai a saperlo in RP Mettete la clip Ieri sera Sono stato chiamato da Aureliano E Aureliano mi ha detto Asso ha fatto un incontro Dove io non ero presente E ti ha messo contro tutta la città Ok? C'ho carriato E lei è un biancantante Un biancantante Non basse altro Oh, santo cielo Questo non era proprio il momento adatto Questo non era direttamente il momento adatto Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non era il momento adatto Pronto Giù Da lontano Sì, da lato, ha capito? Ma se facessimo il round 2 Via, possiamo andare via L'abbiamo distrutti Scarsissimi Oh, merda Oh, merda Tutti in cerchio Tutti scialli Prendi il pesce Dopo piangi tipo gialli Noo 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 Io gli sto sparando Eccoli la sopra La sopra Dev check Dev check Dev check Marta Marta Andava morta vicino a me È uscita per la montagna Alza le mani Alza le mani Vabbè Dai In fear di merda però Mamma mia Pazzola che mi abbia a cacci raga Pazzola che mi abbia a cacci raga Pazzola che mi abbia a cacci raga Toccato tutti i nostri Veramente Con la moto vanilla 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 Eh sì Vi piaci Ah pure Veramente Ma veramente Ma veramente Ma veramente Vanilla raga vanilla vanilla Veloce Fatto Giorno 12-08-2020 Sono il dottor Nola Siamo all'alba Di una delle più grandi scoperte scientifiche Da qui Parte il progetto Genesi I primi pazienti Sono già pronti per essere sottoposti alle prime azioni Verranno somministrati 20 cc di siero E 40 cc di soluzione salina Ovviamente previa anestesia Così da evitare possibili complicazioni Successivamente verranno monitorati per le prossime 48 ore Qui E' tutto Al prossimo Passo in più Mi piace Mi piace Poi magari ci si può organizzare per una piccola orgigietta Ma che cazzo Scusate Fratelli qualcuno ha problemi di parte Sei un coglione Fratelli ma che cazzo Fratelli ma che cazzo Ho detto che non era pronto ancora Sei un coglione Ci riesco Senti ho sentito il mio fratello Ha detto che sta arrivando a visitarlo qua Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aspetta Arriba a salire aspetta che lui ha la stessa crisi che ho avuto la caglia in sede è una crisi ma chi cazzo ha la crisi fra chi ha l'occhio? buonasera telespettatori di Sanremo 2023 buonasera buonasera bambola col fisico perfetto da fatto mamma mamma sogni le copertine tu vuoi studia a scuola professora fatta una mura c'hai 10 in amore bambola tutto bancato di scuola e di favorita il cuore iniziale non mi killa che a te ti fai immazzire ma non sai innamorato te ne vuoi già sei un po nervosa fai di tutto per conquistare io non c'ho parole io non c'ho parole veramente io non c'ho mai ma c'è tutti fatto io non c'ho mai ma mi ha fatto male mi sono messo l'emorroid da un culo come? ma come? eh si si capito buono l'emorroid non faccio male sei tu che non guarda quando hai visto la cazzo la strada sei dimetitato a guarda quando hai visto perché è che è troppo veloce quando hai visto un pochione capito non puoi dire così veloce perché non sto camminando beh non è camminando a loro che sono stato di tutto quando hai visto andato no no aspetta a me no tu sei venuto sope e non te l'ho visto e tu non hai visto a me non ci siamo vissuti due ok c'è messa tu non c'ho troppo veloce ma che chiedevo tra sé tu a sé si dà la tua l'uomo la qua si troppo come fai tutto il coso contrario ma non c'hai capito tu sai che mi sono fatto male ma che ce l'ho spedato e non c'è già fatto ma si dà per la prossima da guarda ai dritti quando ha me vabbè ci hanno fatto a posto a posto coglioni coi capelli rocci vai toccati alla rima lo vedo salina adesso cago spostatevi nasce un vago peccato che prima stavano al barrio vengono di qui piangono se vengono atterrati perché prendono il pesciao lascia stare i ma troppo banale c'è il problema tecnico che tipo di problema tecnico non si vede c'ha quasi una mazza nel culo me la potrebbe estrarre come faccio estrargliela lei è un dottore mi aiuti eeeeh dovremmo operarla è proprio approfondita ma come ha fatto ai? non lo so però non sento nulla sarà il trauma ma lo sa che non è la prima volta che che le capita?